Bene ragazzi, benvenuti sotto di usarci 40 iscritti, li abbiamo raggiunti in... vabbè, in due mesi. 40 iscritti, 40 persone che mi seguono in due mesi. Allora, oggi faremo una pistola, non di metallo, non di ferro, ma di casa! Ragazzi, vedete che io, di Castle Crash, sto per vincere il baù del Super Magico che contiene un'epica. Sì, vabbè ragazzi, torniamo a noi allora. Iniziamo subito con il piegare il foglio, così. E questo foglio io lo chiamerò Roberto, perché Roberto è un nome bello. Ok, poi... adesso... mettiamo bene... bene... e torno io. Notando il pazzo! Notando il Super Magico? Notando lui? Notando mio padre che è... è pazzo. No, 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 no! Vabbè! Ancora! Ancora! Vabbè ragazzi, ma questo non bolla, vabbè! Poi staccatone con le mani! Io faccio con le forbici perché non lo so ci vuole. Ancora sì, intanto con la canzone local to the jungle! ok adesso prendiamo uno dei due fogli va bene tutti e due lo pieghiamo così poi dentro lo pieghiamo di nuovo così ragazzi questo foglio si chiama Roberto ricordatevelo perché Roberto appunto è un nome bello di nuovo lo dico ok così poi ragazzi così si sta capendo qualcosa di quello che faccio no perché ok e questo è il risultato poi con mia sorella sopra ragazzi vabbè questo è completo ma prendiamo questo facciamo così non fate la stessa cosa di prima ma no ragazzi ho sbagliato una cosa mi sa non lo so ragazzi ho sbagliato qualcosa o così e così adesso lo piegate così poi giusto mi sa di si si ragazzi allora piegatelo meglio voi che ragazzi un attimo ragazzi mi sto incavolando mi sta portando stress questa roba vabbè sentite allora adesso no 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 a pieghi grazie in due aspettate poi apriamo qua ragazzi non apriamo un corno non apriamo un corno spieghiamo così castello crash poi così aspettate castello crash aspettate ragazzi un attimo che non mi viene ok ragazzi la nostra pistola è venuta spero che ci avete capito qualcosa perché io mi sono stressata a fare sta roba ragazzi e adesso devo spegnere perché sennò io muoio se continuo così io muoio bella ragazzi spolliciate tutti e viva Antonio TV Sergi ciao no ragazzi allora io se vado avanti così muoio quindi adesso io stacco perché sennò muoio perché io adesso mi sto davvero incavolando e ci vediamo domani perché ci vediamo domani perché mi sto incavolando ciao